Ciao a tutti ragazzi, siamo Rappi Appolini! Siamo tutti pazzi, tutti pazzi, tutti pazzi, tutti pazzi Ma che cosa ti hai ridato ai capelli? Una cera strana? La cera, sì Comunque sì, oggi siamo qui, su Roblox, perché come puoi vedere Ma quello c'ha i capelli che volano, l'hai visto? Qui c'è molta gente stramba, come puoi vedere, guarda, c'ha un pesce sopra la testa E te lo dico io perché c'è gente stramba, c'è gente stramba perché siamo in un circo In un circo E questa è la storia dei veri personaggi di Digital Circus Guarda questa che è un libro sopra la testa Non mi ascolti niente, io vado via No, 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 oggi comunque, come ha detto la Ro, la Re, la Ro, la Ro Cioè oggi proprio, allora Molly non ce la può fare, cioè non si ricorda nemmeno il mio nome Ragazzi, Rappi e Molly, come ha detto la, stavi per dire la... Rugby Allora, un attimo, oggi con calma siamo nella vera storia di Amazing Digital Circus E oggi la capiremo qui insieme su Roblox Cosa ho detto io 5 secondi fa? Vabbè, cominciamo Io ho detto esattamente questo Ok, ok Ok, vai, qua No, è pieno Abbiamo aspettato dopo i fuochi, aspettiamo un altro pochissimo Calma, 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 guarda, guarda dove siamo Amazing Amazing Sei com'è tutto questo? Pomni, Pomni Molly, sei com'è tutto questo? Amazing Vabbè Vediamo se ho tradotto bene No, perché non viene più in italiano, per fortuna c'è la traduttrice, simultanea traduttrice Per partire ho organizzato una caccia al tesoro per bambini Lo smorfcat Vai a trovare 5 oggetti di Roblox nascosti nella stanza Ok, dobbiamo trovare 5 oggetti Comunque io non ho studiato per fare la traduttrice simultanea, però va bene No, 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 tu hai studiato Sì, ma non per la traduttrice simultanea La tradurre Basta, devi cercare dei giochi qui dentro Guarda lo smorfcat La papera va No, dai, resta qua Ma li abbiamo trovati Non ti dico più niente Qua, no, traduttrice Dove? Ben fatto, avete ottenuto tutto Avete ottenuto tutto Ok, poi? Tutto cosa? Non abbiamo trovato niente Ok, bambini Noi siamo bambini Adesso sediamoci tutti E così possiamo continuare Oh, beh, ho seduto giusto Ho seduto giusto Ho tradotto giusto Ho seduto giusto Allora, guarda, l'obiettivo è scegliere e sediti sulla sedia Qualcuno rimane fuori Quello è infatti il gioco No Attenzione Ah, no, ci sono un po' di sedie Eh, ma ce ne sono anche altre Sborchi, siamo qua Belli questi giochini Vediamo un po' Vediamo un po' No, pomni Sta arrivando pomni No Ok, ragazzi Adesso dobbiamo decidere cosa fare dopo Ok, cosa facciamo dopo? Mac o...? Allora, vogliamo andare a giocare a soccer Oppure a fare... Ah, sì Una partita di calcio O fare un'avventura del circo Vediamo Lui sta scrivendo Facciamo una votazione Di votare Di votare Al circo voglio andare Avventura al circo Secondo me non possiamo scegliere Secondo me sì Ma va, secondo me ce lo sta dicendo per ingannarci È logico che facciamo un'avventura nel circo Guarda, sì, facciamo un'avventura Ok, ma perché abbiamo un piede di porco? Ma perché pomni... Perché pomni è arrabbiata? Ma come è arrabbiata? E aveva una faccettina triste Ma no, è la sua faccia di sé Aspetta Aspetta Ma se ne è la lava Abbiamo andare... Ah no, non dobbiamo andare sopra la lava, eh Dobbiamo andare sopra la lava? Sta chiedendo uno No, no Ma come sì? Guarda È una... È pazza, è psicopatica Guarda che pazza Cosa sta scrivendo? Allora, tutti quelli che non ce la fanno vanno a casa Forza No, come non voglio andare a casa? Pommni 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 No, non fare così Dai, forza Tutti quelli che non ce la fanno vanno a casa? Esattamente Togli, togli gli stai mani Se non ce la fanno è finita Tu andrai a casa perché sei l'ultimo Forza, vogliamoci No, no, è l'uomo stecco che non ce l'ha fatta Perché siamo tutti fermi qui? Ma queste volano i capelli qua Te l'ho detto due anni fa che volavano Due anni fa Allora, qui? Eeeh, perché? Ma no Stai intenso Mega Sony Lo smart cut Lo smart cut sta parlando Allora Mi sono stancato Dovremmo tornare indietro Infatti c'è qualcosa che non va, eh C'è qualcosa di strano, infatti C'è qualcosa di strano Andiamo via Eeeh, ha fatto la cioccolata calda Ecco Per farsi rimanere Prendi la cioccolata calda L'ho presa, l'ho presa Pumni Con il marshmallow Con il marshmallow No, mi fai con il marshmallow Grazie Pumni Grazie Pumni Ti vogliamo tanto bene Ok Sono facili comunque questi obiettivi Dai, prima dovevamo sedersi sulle sedie Poi dovevamo mangiare la cioccolata calda Beh, alla fine Pumni non è così cattiva Non mi convince per ora Rebbia Ma non è così cattiva Pumni Ne vuoi un pochettino Pumni? Pumni Allora, dobbiamo far, deve farci vedere dove dormiremo stanotte Ma perché? Io voglio andare a casa mia Oh mamma Ma come dormire? Attenzione All right Dobbiamo scegliere un forza Dobbiamo scegliere un forza Un letto Ecco Un letto di Molly Oggi è stato fantastico Lo smurf cut è sempre entusiasta Lo smurf cut è felicissimo Va bene lo smurf cut è felice Ok comunque sta andando bene Per ora io mi sto divertendo Allora abbiamo già trovato un no letto Volevo dire obiettivo Entro 11 secondi Buonanotte Ma sta diventando buio lì dentro Guys ragazzi Oh sta scrivendo Allora ragazzi cos'era quel rumore? Cos'era? Io non ho sentito niente Alzatevi Hai sentito del rumore? Cos'è? Pumni? No non bisogna andare in giro ragazzi Pumni sei tu? Io ho ancora la cioccolata qua Si arrabbia Pumni No No è diventato cattiva Oh my god No Che cos'è? È Pumni Ma come Pumni? Il fratello malvagio di Pumni Cosa scrive? Tutto in rosso Avete preso quello che è mio E adesso pagherai No non abbiamo preso niente noi bello Corri Lascia la cioccolata calda e corri Oh no Oh no 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 Corri 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 Run Non va via È chiuso Avviutateci Che ha per farli prendere da Pumni Ti vuoi un po' di cioccolata calda? Smurf cut si farà intrappolare No Smurf cut devi sopravvivere No 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 corri corri Correte ragazzi Correte Spaccate le finestre Non si esce di correre Oh mamma mia Vuoi un po' di cioccolata calda amica? Ma che ci vuoi un po' di calda? Devi scappare da Pumni No lo Smurf cut Se ne è andato lo Smurf cut Aiutiamo lo Smurf cut Oh mamma No no aiutiamo Lo scappiamo Ma come non aiutiamo? Povero Smurf Ma se ci nascondiamo nel letto? No mi sa di no è impossibile Non si può uscire di qui Oh mamma mia Lo Smurf cut No 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 Smurf cut No Sì sì Chissà perché è arrivata adesso Pumni Eh ho sentito un sangue Un rumore Un rumore adesso Quando lo Smurf cut L'hanno fatto a pezzi No E adesso? Eh perché la moda Del Pumni Ha ucciso la moda Dello Smurf cut Ha detto Pumni ha detto che lei Non è successo niente Pumni non mi convi Guarda tutti la odiano Queste cose non esistono Cosa? Wow ragazzi Avete davvero un'immaginazione Selvaggia Non penso proprio Quelli del circo digitale Non esistono Ha detto Invece esistono Non esistono Allora tu non esisti Lo Smurf cut Andate a dormire Ragazzi un minuto di silenzio Per lo Smurf cut Era bellino lo Smurf cut Good morning Allora Pian piano stiamo Diventando sempre meno Eh ma perché ogni volta Ne fa fare uno diverso Il Natale Lei ama il Natale Sì Ok Decoriamo l'albero Vai Decoriamo l'albero Accendi tutte le luci sull'albero Tutte le luci Forza come si fa Accendi luce Ok Accendi luce Accendi luce Sì a Pumni potresti farlo anche tu eh Eh ma ci sono anche gli altri che ti devono aiutare Accendi luce Accendi luce Accendi luce Le abbiamo accese quasi tutte Aspetta qua su Bisogna andare là sul divano Aspetta che non ci arrivo Eh ci sta provando lui Ragazzi non riesco a accenderla Eh va bene Quelle in alto Non si accenderla Quelle in alto chi le accende Ma quelle arancioni Perché non le avete accese Perché ne so io E provate a accenderle Avete 0 secondi Ok fantastico Avete fatto un ottimo lavoro Ok io ancora la cioccolata in tutto ciò Basta Metti via con la cioccolata Ma è troppo buona Lo spirito natalizio è con noi È davvero con noi Allora no dobbiamo mettere a posto Ma basta Pomni Ma cosa siamo i tuoi schiavi Ma no ha detto che dobbiamo pulire Ma dove Allora dobbiamo raccogliere tutta l'immondizia che c'è Dov'è l'immondizia Pomni La spazzatura Ma non c'è spazzatura Oh Ma ecco guarda Una due L'ho presa Adesso dove la mettiamo Altra immondizia Oh che schifo come puzza come i piedi della Reby Ma non è vero I miei piedi non puzzano Great job ragazzi Avete raccolto la spazzatura Ti meriti la ricompensa Vai ricompensa Vediamo Ricompensa Ah ci porta le caramelle Si Buone Caramelle Dove sono Guarda quello che ha un pretzel dietro la schiena Però hai sentito cosa ha detto Dobbiamo aspettarla qui e non andare in giro No 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 Adesso torna un pazzo No non dobbiamo andare in giro perché va a prenderci le caramelle Stiamo dicendo Pomni ci ha lasciato Pomni ci ha lasciato Ma scusa siamo rimasti in quattro Siamo rimasti in quattro No No Basement No non si può Digli a Samu No 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 Samu non si può Ci è andata a prendere le caramelle e ci ha detto di rimanere qui Samu vuole andare lì vuole andare No Let's go No Samu no No Samu no Ma è pazzo Ma è pazzo Ma perché Samu Ma Pomni aveva detto di no Ok cosa sto dicendo Dove andiamo ragazzi Perché siamo qui Perché Dove siamo Oh no Oh mamma adesso Ci sono i laser lassù ma siamo pazzi Esatto Esatto dobbiamo uscire da qui velocemente Forza 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 ragazzi Ah oh sto prendendo danno Sono tornati anche tutti gli altri No l'acqua sta Sto andando l'acqua Forza forza Si è rotta l'acqua Rebi Eh lo so ma Eh avevano detto di non uscire di qui Perché siamo usciti L'acqua Oh mamma mia Sì vabbè ma come si fa qui Eh è impossibile Ok fantastico Non potremo mai più tornare da Pomni eh Ok e adesso Kitty ha scritto Yeah No no dobbiamo andare Dobbiamo andare nella lava Dobbiamo andare nella lava Forza forza devi montare su quei cosini Non dobbiamo andare nella lava Rebi Devi andare nella lava No no se andiamo nella lava è finita per sempre Vai forza salta Salta Mi sa che la traduttrice simultanea si è rotta Vai 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 Siamo qui sia Pomni Pomni sei tu Veloce fuggi Mancano quelle Eh ma non mi fa passare di qua Non è colpa mia Muovetevi tutti Qua sta preso Deve prendere un po' di sole poverino Ah non posso uscire Sei scottato E adesso E Pomni E Pomni E Pomni Chi è Siamo in un circo Oh No è di nuovo la cattiva Ma non è quello di prima Non è quello di notte Ma non lo so Sembrano tutti uguali L'uscita è qua Uscita L'uscita Mi sa che questo si arrabbierà eh Oh mamma Oh mamma Non possiamo uscire di qui Si sta arrabbiando Si sta arrabbiando È il clown È il clown cattivo ragazzi È il clown cattivo Oh No è Pomni No è il clown cattivo Che si sta dicendo Che tornerà E Pomni Allora Sei rotto questo traduttore Allora Pensavo fosse Pomni Perché ha scritto Ve l'avevo detto Che torneremo Dobbiamo attaccare il boss No attaccatelo Oh mio dio Lo zucchero filato No 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 Io mangio la cioccolata No 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 Dobbiamo attaccarlo quando È giù Ragazzi forza Forza tutti insieme Adesso attacchiamolo Tutti insieme Più veloce Più veloce Più veloce Tutti insieme Devi scappare Mamma mia, aiuto, aiuto, il miele, il miele, il miele Il miele? Non è miele, lava All'attacco Mamma, 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 mamma Picchia, 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 è il clown pazzo Siamo morti Perché? Perché siamo morti? Il pupazzo maledetto ci ha fatto fuori Ragazzi, la vera storia di The Amazing Digital Circus È davvero amazing Amazing Da noi è tutto E se volete che si riproviamo, fate se lo sapete Ci vediamo presto, ciao! Ciao!